Vi aspettiamo tutti lunedì, dalle 8.30 alle 9, con Finanziaria Mente. Un programma di educazione finanziaria, vero Giusy? Certamente, ogni lunedì parleremo di finanza, delle decisioni che ogni giorno dobbiamo prendere in azienda, in famiglia e per noi stessi. Ogni lunedì vi aspettiamo a partire dal 5 di ottobre alle ore 8.30. Non mancate.